Prosegue il ciclo di incontri della Commissione Reti e Sistemi Museali del MIBAC, istituita dal Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli. L'obiettivo è di elaborare linee guida utili allo sviluppo di strategie di collaborazione e cooperazione tra istituzioni culturali e realtà produttive del territorio e studiare forme integrate di gestione del patrimonio culturale italiano. A Napoli, oggi presso Villa Pignatelli, c'erano la Presidente della Commissione Reti e Sistemi Territoriali Daniela Tisi, la direttrice del Museo Pignatelli Denise Maria Pagano, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il Direttore Generale Musei del MIBAC Antonio Lampis. Per mettere insieme istituzioni pubbliche, private, il territorio, le associazioni. Napoli in questo rappresenta un laboratorio perché è la prima città in Italia per crescita turistico-culturale, è una città in pieno fermento con una grande energia umana e culturale, quindi più si mettono in rete le ricchezze culturali del territorio, più se ne aumenta la fruizione collettiva, si fa uno sviluppo integrato col territorio, si muove l'economia e si creano posti di lavoro, quindi con la cultura si mangia anche, contrariamente a quanto si diceva in un passato poi non tanto lontano.